ehi ciao a tutti quanti ragazzi io sono panino alla spina e bentornati in questo nuovo video oggi ragazzi sono qui perché innanzitutto perché c'è questa mania dei figge spinner no ho detto vabbè ma faccio pure io adesso un video sul figge spinner ce l'hanno tutti manco soltanto io no allora lo faccio pure io ma prima di cominciare vi invito a lasciare un bel mi piace questo video ad iscrivervi al canale e se volete anche mettere mi piace la pagina facebook comunque qua in descrizione trovate tutti i link tutto quanto c'è anche la programmazione dei video così se siete curiosi di vedere i prossimi video che farò c'è tutto scritto lì i giorni della settimana detto ciò adesso possiamo cominciare allora ragazzi sta mania dei figge spinner è una cosa che sta prendendo troppo piede qui nella società nostra nei giorni d'oggi cioè tutti con un figge spinner io non ce l'ho invece però ho rimediato la soluzione perché sono riuscito a trasformare il mio smartphone in un figge spinner e ve lo faccio vedere tutto grazie a un'applicazione che si chiama non lo so figge spinner una roba del genere mi ha trasformato il telefono così c'è quel figge spinner non so se si vede bene ho qua lo smartphone figge spinner e qua c'ho il mio figge spinner che faccio girare così guardate no 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 ah si sta andando guarda quindi mai più gente senza figge spinner uno si scarica l'applicazione c'è la qua che poi è bello che se io vado more spinner aspetta che questo è un telefono che non mi trovo bene lo dico già però fortuna non è mio telefono principale c'ho qua una marea di figge spinner no sbloccabile e qua ce ne sono altri di tipo bonus che sono più belli che poi c'è questo qua colorato questo qua in forma di coso appuntito questo vediamo questo qua ah oppure questo qua aspirare a chiocciola vediamo questo qua com'è oh guarda e comincia a guardare e gira guardate wow che bello che bello quando c'è questo telefono in mano mi prende lo schizzo scusatemi e posso fare anche i trick guardate e coso gira però il telefono non mi vede a lasciarlo guardate io faccio girare il figge spinner opla e continua a girare faccio così con il figge spinner e gira e guardate vedete qua è migliore del figge spinner normale questo cioè posso lanciare il telefono dal balcone sulla cosa continua a girare si è sfermato ma appena finisce di girare io posso subito farlo girare dall'altro lato guardate guardate inverte girazione si vabbè rotazione uno si diverte con poco ma buon ragazzi questo era il video del mercoledì forse mi sono mosso un po' troppo spero che questo video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale e niente ragazzi buona giornata guardate stiamo vicino all'estate quindi dai su che adesso ci saranno sempre buone giornate e belle giornate ciao ragazzi